Lounge Bar Beethoven Caffetteria, drink, stuzzicheria, piatti caldi Con la nostra nuova gestione stiamo riportando il Bar Beethoven agli antichi splendori rendendolo il punto d'incontro per ogni età Un'offerta sempre più ricca sapremo coccolarti e prenderti per la gola nella pausa pranzo con piatti davvero gustosi E ancora, happy hour, spritz party Una nota specialità, i nostri cornetti caldi Ti accoglieremo nell'elegante cornice delle nostre sale interna ed esterna dotate di ogni comfort cibo, relax e sano divertimento con la qualità, la professionalità, l'eleganza e la convenienza che ci contraddistinguono Ti aspettiamo in Viala Caeta 1 Taranto Per noi, ogni cliente è unico e speciale Benvenuti! 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 Benvenuti!